Non è che non si sia rinnovato, il contratto è già a terra, faremo più anni insieme, voglio darvi tutti i dettagli quando abbiamo firmato tutto quanto, quindi è stata soltanto una mancanza di tempo, però vi posso assicurare che lui è il nostro futuro centroavanti. Luigi De Laurentiis spegne su nascere le polemiche al centro del Bari del futuro con un progetto a lungo termine, ci sarà Ciro Polito, il rinnovo del contratto del direttore sportivo oggi in scadenza giugno del 2023 con opzione di prolungamento fino al 2024 e un tema discusso in casa Biancorossa da diverse settimane. L'intesa è stata raggiunta a giugno in un vertice romano, ma sin qui l'annuncio della proroga dell'accordo non è arrivato per quello che il numero uno del Bari definisce il suo centroavanti. I numeri sono dalla parte del DS, arrivato in bianco rosso a giugno del 2021, Polito ha rivoltato come un calzino un organico ricco di contratti esosi e povero di personalità. Sono state 40 le operazioni completate in entrata e in uscita nella scorsa stagione, formando e forgiando una rosa in grado di vincere il girone C di Serie C. La sensazione è che anche agosto del 2022 sarà foriero di tante novità, dando seguito a un mercato che sin qui ha mosso più di una dozzina di pedine tra acquisti e cessioni e che inciderà su una campagna abbonamenti che fino all'ultimo weekend di luglio ha portato alla sottoscrizione di 4.500 tessere. Vedendo anche i numeri del passato non sono numeri malvagi, anzi la campagna va avanti, spedita, spero che questi complotti non creino un arresto, una frenata, quello mi dispiacerebbe molto. Ripeto, l'importante è che noi abbiamo prorogato anche la scadenza delle scontistiche, quindi dell'agio, per permettere a tanti altri tifosi fino al 12 agosto di accedere a una scontistica che, voglio ricordarlo, in curva nord ha un euro in più rispetto al campionato di Serie C, si vede la Serie B. Insomma, io veramente ho cercato di non creare alibi a nessuno. A dare una spinta in più all'acquisto degli abbonamenti senza dubbio potrebbe esserci un colpo in entrata. L'identikit è quello del centro avanti, priorità assoluta sull'agenda di Polito e Mignani. Non è un mistero l'interesse per Gittgier del Monza e Simi in uscita dalla Salernitana, ma si valutano anche altre piste. Domenica sera alle 21 intanto sarà tempo della prima uscita ufficiale. All'Arecchi di Salerno, campo di gioco scelto per l'indisponibilità del San Nicola, arriva il Padova per i preliminari di Coppa Italia.